Questo è un corso per il decoratore e il decoratore finanziato dalla Regione Toscana. Il ruolo di CNA Toscana è stato primario e principale perché prima cosa ha fatto riconoscere i profili professionali del settore, dopo di che ha partecipato un bando specifico sull'artigianato artistico e si è giudicato con la sua agenzia formativa Ambiente Impresa che opera a livello provinciale il bando di questo corso. All'interno di questo corso si eseguono dorature e decorazioni di manufatti linee, gli allievi sono 14, la durata del percorso è 900 ore di cui 300 ore vengono svolte all'interno dell'azienda del settore. Grazie